No, no, no... Non, non... Non... No... Perfavor... No... 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 Cacavacchi! Lo assi conmigo! SEMANZITO, il 27 di febrero, un video a YouTube Mascio de PASSIMO Il YouTube, questo è il YouTube Il 27 E, per io verlo, come? Per io verlo, come? Il video tu vuole? Per io, per verlo, il video Come tengo a conoscere Il nome è Mascio de PASSIMO Il video si tu vuole Papà, papà, tu qui conmigo? Si? Claro Oh ma, mira, tu amico Tu amico? Tu amico di Real Madrid E del Betti? Oh, che, che? Per io e Cadi Sì, per Cadi Sì, per Cadi Gonzalo Gonzalo Vete per io Come la tiene, il YouTube? Il YouTube? Il 3 Il 3 Hola Il 3 Patti di Linn Ah 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 Allora, quindi come chavo io questo? Non lo so, il nome non lo so Io 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 Allora, lo metto io in Google Google Google, no? Google Google No Google.com Ah Google.com 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 Questo è in 3W? Sì In Google, no No Google, no Uno Dos Tres Sì Sì E poi Ventana di Buscando Video Buscando Sambomba Sambomba Sambomba